Era già passato un anno da quando per la prima volta aveva baciato sulle labbra Maria, che si era precipitata da Piazza Grande per andarlo ad abbracciare ai faraglioni di Scoppello, dove Alessandro sin da adolescente passava ogni anno il mese d'agosto. Come si erano amati, come si erano appassionati l'uno al sapore morbido e umido dell'altra. E com'era passato veloce quell'anno, troppo veloce, intenso, vigoroso, ardente. Sapeva bene come andavano a finire tutte le storie d'amore, perché le aveva vissute, perché se le era sentite raccontare centinaia di volte dai suoi amici, dalle sue amiche, che con lui si erano confessati con gli occhi zuppi di lacrime e la voce che lentamente e progressivamente diventava sottile, brauca, insicura, tremula, strozzata, interrotta, singhiozzante, lacerante per le sue orecchie, che lo riportavano ai dolori e agli strazzi del suo passato, dei suoi amori già vissuti. Lo sapeva bene come ogni storia d'amore si sarebbe conclusa. Lo sapeva com'era, lo sapeva bene. Il primo anno si fa l'amore ogni giorno, più volte al giorno, poi quattro volte alla settimana, poi tre, poi due, poi una volta alla settimana, poi una volta al mese, e poi si guarda un'altra donna. E lì è finita.